amici ben ritrovati buongiorno qualche settimana fa sempre una decina di giorni fa come per gli scatti di calibrazione durante una una lezione abbiamo praticamente compilato insieme una serie di punti fondamentali per iniziare ad orientarsi un po tra i filtri astronomici ho pensato di fare più di un filmato quindi questa sarà soltanto la prima parte di video che si rivolgono a chi a chi ha appena iniziato e soprattutto di filtri astronomici non sa nulla sa che deve acquistarne qualcuno per poter fare astrofotografia nella stragrande maggioranza dei luoghi da cui si fotografa in italia l'inquinamento luminoso e tale per cui serve avere qualche filtro ma si fa spesso molta confusione tra le tipologie dare dei consigli in astrofotografia talvolta è molto complicato come per la scelta del primo telescopio anche nel caso dei filtri ci sono tantissime variabili in gioco e alcune di queste sono soggettive relative magari al cielo dal quale fotografiamo o del setup che abbiamo quindi per chi come me prova in qualche modo ad aiutare come i tanti magari anche che sono dentro la nostra community astrofarm che provano a consigliare i neofiti che vengono lì iscrivono e chiedono informazioni sui filtri sappiate che è molto difficile per noi farlo perché ci sono tante variabili di cui tenere conto io le regole che mi sono dato all'inizio di questo canale sono state fondamentalmente il 2 non prendere mai soldi da produttori da negozi per fare le mie prove le mie recensioni e non parlare mai assolutamente mai di qualcosa che non avessi provato più o meno lungo direttamente perché è l'unico modo per saltarci fuori costruirsi un'esperienza misurabile nonostante questo nonostante vi possa parlare di filtri che ho utilizzato restano molte variabili di cui tener conto che potrebbero incidere sulla vostra scelta soggettiva sarà un discorso articolato che dovrò affrontare in più filmati quello di oggi si ferma soltanto alle categorie alle tipologie principali di filtri perché molto spesso vedo magari da chi ne sa meno da chi si avvicinano per la prima volta all'astrofotografia che si vanno a chiedere informazioni confrontando tra loro filtri completamente diversi non è che non si possano confrontare le miele con le pere possiamo descriverle entrambe rispetto alla loro differente forma a colore e sapore possiamo fare questi confronti ma bisogna sapere che sono a che appartengono a due categorie differenti ecco quello che facciamo oggi è definire le categorie dei filtri in modo tale che anche se si vuole confrontare ad esempio un l pro con un lenance lo si può fare ma è importante conoscere prima la differenza fondamentale alla base che sta tra un filtro a banda larga e un filtro a banda stretta è un discorso che ho già affrontato secondo me nel con nella presentazione in un video che vi ho preparato sull'enance delle pro dove vi raccontavo che sono filtri che si possono confrontare ma che di fatto non appartengono alla stessa tipologia e che quindi e dove quindi il confronto diventa un po relativo può essere fatto più che altro per esaltare le specifiche di una categoria piuttosto che di un'altra andiamo con ordine e vediamo un po quali sono le tipologie di filtri la storicità di cui posso parlarvi io sono questi ultimi nove anni che completato di astrofotografia e quindi non vi parlerò di esperienze più indietro storicamente di quelle che non abbia vissuto direttamente dieci anni fa le categorie principali di filtri diciamo consumer quindi quelli economici per una persona che inizia a fare astrofotografia erano filtri banda larga filtri banda stretta e dei filtri un po intermedi queste categorie esistono ancora oggi vediamole in ordine e cerchiamo di capire perché distinguono e separano filtri proprio in gruppi macro gruppi differenti il concetto del filtro a banda larga è molto semplice sono filtri che fanno passare tutta la luce possibile verso il vostro sensore il massimo numero di fotoni ad esclusione di quelli che appartengono all'inquinamento artificiale notturno ogni gas ionizzato ogni gas che in qualche modo emette luce non è correttissimo dal punto di vista astronomico però diciamolo così siamo fotografi e possiamo permetterci questa piccola semplificazione hanno di fatto un colore specifico come se avessero un indirizzo chiaro e sempre quello ha un colore specifico all'idrogeno ionizzato a un colore specifico l'ossigeno ma anche le lampade al sodio o al mercurio con cui illuminiamo le nostre strade negli anni è stato sufficiente costruire dei filtri che facessero passare tutti i fotoni verso il sensore eliminando soltanto delle porzioni delle sezioni molto precise molto specifiche relative proprio alle luci artificiali questi si chiamano filtri banda larga fanno passare un po tutti i colori diciamo con qualche piccola limitazione per aiutarci di notte a subire meno gli effetti dell'inquinamento luminoso perché ci disturba l'inquinamento luminoso perché chiamato background noise sono sempre fotoni che arrivano al nostro sensore la fotografia digitale si basa sulla possibilità di intercettare dei fotoni per realizzare la nostra immagine bene questi fotoni però nel caso dell'astrofotografia nel caso della singola serata in cui andiamo a fotografare scegliendo ad esempio orione vogliamo che arrivino da orione non da altre parti l'inquinamento luminoso aggiunge background noise alla nostra immagine perché sensore registra del segnale che non arriva però dai fotoni di orione ma arriva dai fotoni della città magari circostante e questo ovviamente si manifesta sulla nostra immagine come un disturbo dei filtri banda larga che eliminano soltanto l'indispensabile per limitare il passaggio di questa tipologia di emissioni ci aiuta a contrastare gli effetti dell'inquinamento luminoso esistono poi filtri banda stretta che definizione possiamo dare di questi filtri esattamente l'opposto rispetto a quelli a banda larga sono dei filtri che fanno che bloccano tutta la luce bloccano il passaggio di tutti i fotoni tranne quelli di una precisa emissione in questo caso che filtri banda stretta sono stati ideati creati quelli bene o male che replicano le scelte della nasa per il telescopio spaziale hubble per il quale scelsero tre gas che possono cromaticamente differenziarsi e che sono comunque molto presenti nelle nebulose ionizzate l'idrogeno l'ossigeno lo zolfo in particolar modo l'idrogeno ionizzato l'ossigeno terzo e lo zolfo secondo questi tre elementi essendo appunto gas ionizzato hanno un colore specifico e i filtri banda stretta bloccano tutto lo spettro che potrebbe raggiungere il vostro sensore tranne questo preciso indirizzo un filtro a banda stretta fa passare soltanto uno di questi gas se facciamo passare soltanto un colore o un insieme di sfumature molto ravvicinate tra loro che immagini avremo necessariamente in bianco e nero ecco perché sia che si utilizzano questi filtri su camera colori o mano o con sensori monocromatici all'inizio dell'elaborazione del nostro file questo questo con questa immagine grezza deve essere messa in bianco e nero perché di fatto abbiamo fatto passare soltanto un canale questo è già un discorso un po più complesso per chi non sa nulla di astrofotografia ma lo affronteremo nei prossimi filmati che vantaggi abbiamo in questi filtri beh chiaramente blocchiamo il passaggio di qualsiasi cosa che non sia un'emissione specifica di una nebulosa perciò otteniamo sì una forte selezione sui fotoni ma ovviamente dei contrasti molto elevati perché tutto il contenuto o gran parte di esso della nostra fotografia descriverà l'oggetto astronomico e sarà più o meno privo di fonti di disturbo esterne dovute all'inquinamento luminoso artificiale circostante ora per decidere fra filtri a banda stretta e filtri a banda larga senz'altro quali sono le situazioni in cui possiamo o non dobbiamo utilizzare l'uno o l'altro serve avere una minima conoscenza sui oggetti astronomici abbiamo degli oggetti nel cielo cerco veramente di ridurvela al minimo indispensabile che emettono su un ampio spettro di colori quindi emettono su un arcobaleno di colori dobbiamo per rappresentarli completamente raccogliere moltissimi colori abbiamo invece altri oggetti le nebulose a emissione le classiche nebulose che vediamo nelle immagini deep sky così colorate così tanto belle che si emettono sempre su una serie di differenti componenti ma sono caratterizzate da due tre elementi in modo molto massiccio l'idrogeno ionizzato ad esempio in questi soggetti il più delle volte forma gran parte del materiale presente in questi casi è possibile rinunciare tra virgolette talvolta all'acquisizione dell'intero spettro per concentrarsi su quello che potrebbe andare a comporre non so il 70-80% dell'intera essenza della nostra nebulosa a emissione allora senz'altro non dovremmo usare filtri a banda stretta su oggetti che invece emettono su uno spettro molto ampio quali sono? le stelle, quindi non soltanto le stelle singole se vogliamo registrare bene il loro colore abbiamo bisogno di una ripresa a banda larga gli amassi globulari, gli amassi aperti, tutti questi oggetti formati da stelle vanno ripresi in banda larga se vogliamo che vengano rappresentati tutti i loro colori sulla nostra fotografia in quali altre situazioni banda larga? le galassie, la luce delle galassie che vediamo proviene dall'insieme delle loro stelle quindi la regola non cambia, le galassie emettono su uno spettro ampio non le si riprende normalmente in banda stretta, le si riprenderà con dei filtri banda larga e riguardo le nebulose, è senz'altro necessario andare in banda larga quando la nebulosa non è composta da materiale ionizzato cioè quindi quando non è formata, almeno in gran parte, da questi due o tre elementi ionizzati che possiamo registrare con dei filtri banda stretta in alternativa alla banda larga quali sono queste nebulose? le nebulose oscure, le nebulose a riflessione dove abbiamo delle polveri che non sono ionizzate ma magari sono illuminate soltanto dalle stelle circostanti lì abbiamo, resta una composizione variegata e soprattutto la necessità di distinguere un più ampio spettro proprio per separare delle polveri che a fatica si separano dal fondo cielo a livello di intensità in quali altre situazioni, infine, è senz'altro utile utilizzare la banda larga? dove abbiamo nebulose a emissione? sì, ma comunque caratterizzate da moltissimi colori vi faccio un esempio, la nebulosa di Orione è l'oggetto perfetto di queste nostre fotografie invernali soprattutto per un neofita perché Orione è molto luminoso e molto portato alla fotografia di chi sta iniziando adesso il proprio percorso Orione è composto da un ampio spettro di materiale tanto che lo si può riuscire a fotografare con soddisfazione addirittura senza la modifica alla reflex e quindi non richiede per forza di cose la banda stretta possiamo fotografarlo con soddisfazione in banda larga e riuscendo così a registrare e esprimere tutti i colori di cui è composto quali sono le circostanze che ci permettono di avere un vantaggio nel registrare soltanto singoli colori ed escludendo così tanta varietà nello spettro finale che andremo a rappresentare nella nostra immagine? Senz'altro i filtri a banda stretta sono utili se fotografiamo se facciamo astrofotografia da luoghi molto molto inquinati purtroppo il filtro a banda larga sarà utile soltanto da cieli suburbani e comunque non eccessivamente inquinati eseguendo un taglio sottile, leggero, non sarà sempre sufficiente e qui inizia la difficoltà di saper consigliare il filtro giusto perché dovremmo sempre essere lì con voi per vedere che cosa avete sotto quale cielo fotografate il filtro a banda stretta senz'altro vi permette di poter registrare dei dettagli molto contrastati e puliti delle nebulose a emissione anche da cieli abbastanza inquinati ma i filtri a banda stretta si utilizzano in realtà anche per andare a caricare, a impreziosire le immagini a banda larga perché queste immagini sono così tanto contrastate sul gas specifico che abbiamo deciso di fotografare escludendo tutto il resto che possiamo andare a sommare magari al nostro RGB a banda larga un canale dell'idrogeno ionizzato o dell'ossigeno costruire delle quadricromie o delle pentacromie quindi delle immagini con 4-5 canali perché questi canali a banda stretta sono sì in bianco e nero ma si affiancati a un'emissione ampia RGB possono andare a consolidare molto il dettaglio, la pulizia dell'immagine e la profondità e i contrasti della nebulosa a emissione ricordatevi comunque che fondamentalmente i filtri a banda stretta servono nei casi in cui l'oggetto da fotografare sia una nebulosa a emissione quindi composta in gran parte da materiale ionizzato è vero che ci sono dei casi particolari perché possiamo fotografare le grandi zone H2 a emissione quindi all'interno della galassia triangolo o di Andromeda quindi ci sono situazioni nelle quali si va a fare banda larga, banda stretta sulle galassie ma per integrarle sempre ad una sessione complessiva banda larga ci sono tanti ma, come sempre ci sono tanti ma ma questo è un discorso generale giusto per darvi qualche riferimento per iniziare ad orientarvi tra queste tipologie di filtri all'inizio vi ho parlato anche di filtri intermedi, cosa sono? ma quando ho iniziato ad esempio a fare astrofotografia ho usato per un paio di anni un filtro Bader UHCS questo filtro UHCS ad esempio è un filtro che esegue già un taglio sullo spettro elettromagnetico molto più intenso di un filtro a banda larga ma non è senz'altro un filtro a banda stretta è un filtro multicolore quindi è un filtro adatto a camere a colori otterremo delle immagini comunque a colori e con ancora un buon numero di emissioni del nostro spettro fotografabile è ideato quindi anche per di fatto andare a contrastare un po' di più le nebulose perché? perché se andiamo a incidere un po' di più sul taglio dell'inquinamento luminoso e in generale escludiamo delle parti dal nostro spettro registrabile quello che resta è senz'altro parte che non coincide direttamente con le fonti di emissione dell'inquinamento luminoso ma che coincide senz'altro con le zone di emissione della nebulosa quindi otteniamo delle immagini più pulite e più contrastate perciò ecco il filtro HCS Bader un buon filtro che mi ha dato soddisfazione è un filtro che normalmente si consiglia per avere delle immagini un po' più pulite un po' più contrastate delle nebulose a emissione quando ho iniziato a fare astrofotografia era un po' blasfemo fare banda stretta con camere a colori soprattutto nel modo in cui avevo iniziato io facendo banda stretta quindi mettendo dei filtri singoli Hα, ossigeno su una reflex modificata una reflex modificata Super UV AirCut una 600D una 600D che rispetto ad esempio ad altri corpi macchina ha anche un'efficienza quantica contenuta e ha dei pixel relativamente piccoli non è particolarmente prestante e avendo il filtro di Bayer che rende sensibili al rosso soltanto un quarto dei pixel capite l'idea un po' sciocca folle di andare a mettere su questa camera un filtro Hα che di fatto andrà a permettere la registrazione di fotoni di segnale soltanto in corrispondenza dei pixel rossi su questo discorso sul fatto di fare o non fare questa cosa di fare banda stretta con camere a colori si può essere d'accordo oppure no quello che vi porto io non è niente di più della mia esperienza diretta per cui ognuno decide che utilizzo farne all'epoca si parla di 7 anni fa 6-7 anni fa iniziai a farlo e dalle prove empiriche dirette che cosa scoprì? che nonostante tutti questi apparenti limiti sulla carta le immagini in Hα che uscivano dalla mia reflex modificata erano talmente pulite e forti che andavano a migliorare lo stesso il mio assemblato RGB e ho iniziato a utilizzare questi filtri per fare degli H-A-RGB ho addirittura fatto qualche esperimento di Hubble Palette ma lasciamo perdere ma quello che conta è che poi la tendenza del mercato ci ha portato oggi ad avere sul mercato dei filtri a banda stretta ideati proprio per camere a colori questi sono filtri multibanda quindi sono dei filtri a banda stretta che selezionano delle singole, delle piccole parti dello spettro elettromagnetico ma ne selezionano più di una così da permettervi di ottenere in una sola, in un solo scatto un'immagine già a colori fanno ad esempio passare l'idrogeno ionizzato ma anche l'ossigeno ionizzato che nei filtri a banda stretta tradizionali troveremmo separati su due diversi filtri perché il mercato è andato in questa direzione dei filtri multibanda stretta? credo che oggi più dei soldi a noi manchi il tempo e i filtri a banda stretta sono stati ideati allo stesso modo di come il mercato si sia coperto di così tante camere CMOS astronomiche a colori questi filtri sono filtri che permettono di ottenere un segnale pulito e contrastato anche da cieli inquinati in fretta, rapidamente con delle camere a colori sono filtri che vi permetteranno di ottenere il meglio in astrofotografia? no il meglio in astrofotografia lo sappiamo che si ottiene con delle camere che montino un sensore monocromatico sui quali andiamo a montare i singoli filtri a banda stretta ad ogni modo ricercandoci anche il cielo più pulito possibile in astrofotografia abbiamo una varietà infinita di compromessi se prendiamo 100 astrofotografi troveremo 100 compromessi diversi trovo un po' limitante oggi chi dice che questi filtri multibanda stretta fanno semplicemente schifo perché incontro sempre più astrofotografi, astrofili che mi raccontano che tra lavoro, famiglia e cielo inquinato nel quale abitano e dal quale non possono assentarsi spesso si ritrovano una sera serena ad avere mezz'ora di tempo e con una camera colori e un filtro multibanda stretta riescono a portarsi a casa un'immagine che a loro soddisfa e questo è il livello di immagine che loro cercano e che a loro dà soddisfazione che a loro basta credo che questi filtri si posizionino soprattutto in questa parte di settore dove possiamo ottenere delle immagini contrastate più pulite rispetto alla banda larga soprattutto se siamo sotto cieli abbastanza inquinati molto molto in fretta non è la scelta per avere il massimo risultato ma è un compromesso che permette di avere comunque un buon risultato in pochissimo tempo migliore fosse di quello che potremmo ottenere con una banda larga sempre appunto se ne facciamo un utilizzo sotto un cielo molto inquinato i filtri banda stretta e i filtri multibanda stretta si differenziano nei nanometri a seconda di quanto di quello spettro che hanno selezionato o di quegli spettri che fanno passare nel caso del multibanda la finestra diciamo sia larga il foro della serratura quindi troviamo filtri ad esempio Hα da 7 nanometri o da 3 nanometri quindi filtri che hanno una finestra su quell'emissione specifica più o meno larga ovviamente è banale andare a fare un confronto ad esempio sull'Optolong L Extreme e sull'Optolong L Nance gli ultimi due più in voga più discussi più diffusi di cui si parla più spesso inevitabilmente per una questione proprio di distribuzione sul mercato di copertura tutti hanno questi filtri torno al discorso che facevo all'inizio ha senso confrontarli se sappiamo che stiamo confrontando le pere con le mele non proprio come quando confrontiamo un filtro a banda larga con un filtro a banda stretta ma anche in questo caso comunque stiamo parlando di un filtro le Nance a 10 nanometri e un filtro all'Extreme a 7 perciò sono due filtri dove il confronto diventa piuttosto ovvio al di là di singole caratteristiche dove magari possiamo avere non so, dominanti, aloni, problemi di ogni tipo quello ovviamente caratterizza il singolo nome il singolo oggetto però quando confrontiamo i filtri a banda stretta rispetto ai loro nanometri ovviamente sappiamo che più il filtro va a chiudere e meno arriveranno fotoni al nostro sensore non arriva più segnale con la banda stretta potenzialmente ne arriva meno è vero che andiamo a escludere i fotoni del background noise della città circostante che inquina la nostra immagine ma è anche vero che andiamo a eliminare tanti altri fotoni invece che arrivavano dall'oggetto astronomico e che qui non verranno raccolti più andiamo a chiudere lo spettro e più andiamo scelta lo spettro di emissione a abbassare i nanometri e più andiamo a far arrivare meno fotoni al nostro sensore motivo per cui su filtri a banda stretta molto molto selettiva servirebbe aumentare il diametro per aumentare l'area di raccolta dei fotoni rimasti dopo la selezione di questo filtro quindi è normale vedere delle immagini più contrastate nell'extreme rispetto all'e-nance ad esempio così come vediamo in un esempio ancora più lontano più esagerato immagini più contrastate tra un L-nance e un L-pro che è un filtro sempre della stessa marca a banda larga in questo caso per chiudere ricordatevi che la banda larga è comunque sempre la scelta ideale se abbiamo un cielo molto pulito poter rappresentare sulla nostra fotografia tutte le stelle anche circostanti nell'inquadratura di una nebulosa emissione con il loro colore con la loro varietà cromatica è bellissimo quindi è sempre preferibile riuscire a fotografare a banda larga soltanto che alcuni di noi hanno dei cieli dove si fa fatica a farlo e quindi diventa una scelta inevitabile quella di andare verso canali in banda stretta là dove è possibile farlo l'immagine a banda larga ci rappresenta un arcobaleno di colori e quindi sarà sempre più bella sarà sempre più gradevole su qualsiasi tipo di oggetto senz'altro possiamo dire in generale per chi inizia appunto tenendo conto che ci sono parentesi ed eccezioni che normalmente su galassie stelle a massi globulari a massi aperti nebulose a riflessione nebulose oscure si fotografa sempre in banda larga su nebulose a emissione possiamo utilizzare sia la banda larga sia la banda stretta perché quei tre filtri zolfo, ossigeno, idrogeno su una nebulosa emissione comporranno probabilmente gran parte del materiale presente in questo oggetto astronomico e quindi ci daranno comunque una rappresentazione nei dettagli e nei colori buona soddisfacente per quanto ricordatevi appunto come ho appena detto che in queste immagini poi alla fine montate si dice sempre in falsi colori perché stiamo rappresentando tre colori di tutto lo spettro e quindi che li montiate in natural color sintetica RGB che li montiate in humble palette e in qualsiasi modo andiamo a montare la banda stretta la rappresentazione è sempre falsi colori le stelle saranno comunque molto omologate tra tutte un po' rossastre tutte un po' bluastre perché purtroppo la sintesi che abbiamo fatto sullo spettro elettromagnetico con la banda stretta avvicina molto le tonalità differenti delle stelle ok spero che in qualche modo nonostante questo argomento sia difficile e nonostante io improvvisi sempre un po' tutto non mi faccia dei grandi piani ho letto questa serie di appunti rapidi che mi sono segnato a lezione spero che questo primo sorvolo sulle caratteristiche dei filtri per astrofotografia possa esservi di aiuto ci sono filtri di diversa misura filtri che si inseriscono nel corpo macchina della Reflex altri che si avvitano sul nostro telescopio dentro le ruote portafiltri si può parlare nello specifico di modelli di marche andare a cercare di fare una considerazione sulle variabili soggettive che possono portare a una scelta il cielo il sistema che abbiamo il setup tutto questo lo farò nella prossima parte di questo filmato e quello di oggi spero penso possa essere un punto di partenza per iniziare a definire qualche conoscenza e orientarsi minimamente sui filtri astronomici trovate ovviamente tantissimi filmati fatti in questi anni qui sul canale dove vi parlo dei singoli filtri per astrofotografia trovate molti articoli sul blog che c'è sul mio sito web su lucafornaciadifotografia.com lì andate nel blog cercate filtri astronomici quello che volete trovate una bella ricordo di aver pubblicato almeno 4-5 articoli in fila che vi descrivono un po' con anche gli spettri elettromagnetici gli esempi di filtri direttamente le differenze appunto che un po' vi ho spiegato oggi vanno anche un po' oltre grazie come sempre spero che questo tempo che ho pensato di condividere con voi possa in qualche modo esservi di aiuto fatene l'uso che preferite e noi ci rivediamo per un altro tentativo di questo tipo al prossimo appuntamento buona domenica a tutti e buona serata e buona domenica a tutti